La festa popolare di Contrada Tesora d'Ariano Iorpino è tra le più genuine nel vero senso della parola. Nata anni fa per risollevare la famiglia affidato e gli abitanti dopo un evento luttuoso, è diventata nel tempo una delle iniziative più attese e gettonate in coda all'estate arianese. E sua maestà lo spezzatino, il vero direttore d'orchestra di questa festa, il profumo è irresistibile tanto che il nostro obiettivo preferisce fermarsi qui a lungo ed è impossibile non assaggiare. Bellissimo, Gianni stiamo di nuovo qua, lo signore c'era forza e noi cercamo di accontentare tutta questa brava gente. Quindi il record di quest'anno quale sarà? Quanti quintali? Le quattro quintali e venti, le quattro quintali e trenta. La buona salute. Grazie, pure a voi. Il vitello è paesano e il prodotto veramente naturale delle nostre aziende e spero che anche nei prossimi anni riusciamo a ottenere questo risultato. Tutti in attesa dello spezzatino? Come si sembra. State aspettando lo spezzatino? No, sì, sì. Sì, sì, spezzatino. È una bella tradizione. Sì, speriamo che duri. Come mai tutta questa folla, questo spezzatino è particolare? Sì, è dell'allevatore della zona. È tutta roba naturale. Quintali e quintali è un gran profumo soprattutto. Ottimo. Speriamo che va sempre bene. È una bella cosa. Ci vuole tanto lavoro per preparare? Da stamattina alle sette. Tutta la giornata, quindi proseguiamo fino a tarda sera. È una bella festa. Mi sembra che noi ci vediamo ogni anno. Sì, ogni anno, sì. Non manca mai. Non manca mai questa occasione. Questa è una delle migliori e dove si mangia lo spezzatino paesano. La serata è buona. È fredda. È fresca pure. Qua è una bella festa. Si mangia solo spezzatino, ma non menesta. Sì, è fredda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.